Andiamo a vedere come questa energia geotermica si produce. Anche in questo caso vi ho inserito una mappa concettuale che permette di vedere quelli che sono i punti più importanti della produzione di energia geotermica. Abbiamo visto che le zone che sono caratterizzate da un elevato e un numero flusso di calore che proviene dal centro della Terra sono quelle che sono più vocate per poter ricavare una centrale di tipo geotermico. Tuttavia per poter utilizzare questa fonte energetica, oltre alle rocce calde, un altro importante ingrediente che noi dobbiamo avere è proprio la presenza di acqua. Quindi perché è l'acqua che rappresenta il fluido che riscaldato produrrà calore che noi possiamo sfruttare. Infatti l'acqua a contatto con le rocce calde che si trovano nel sottosuolo che cosa fa? Si riscalda. E se le condizioni di temperatura e pressione lo permettono può anche essere trasformata in vapore. Per comprendere, ora qui è una parte un pochettino più complessa, infatti per comprendere questi fenomeni dobbiamo avere qualche piccola nozione di fisica. Infatti voi sapete che l'acqua si trasforma in vapore alla temperatura di 100 gradi centigradi, ma questo in condizioni alla pressione di un'atmosfera. Quando la pressione aumenta, pressione perché può aumentare? Quando abbiamo una compressione, un'atmosfera equivale ad una pressione di una colonna di acqua di 10 metri, però già quando la pressione è di 10 atmosfere, che corrispondono alla pressione di una colonna di 100 metri di acqua, che equivale a circa 30 metri di roccia, quindi se queste acque si trovano a 30 metri di profondità, la temperatura di evaporazione dell'acqua sale a 180 gradi. Quindi, in questo modo, la pressione elevata mantengono l'acqua allo stato liquido, anche a temperature molto più elevate di 100 gradi centigradi, ai quali siamo abituati ad associare l'acqua che bolle nelle pentole. In queste aree, dove c'è un elevato flusso di calore che riscalda le acque sotterranee, queste aree prendono il nome di campi geotermici e, in genere, vengono distinti in sistemi geotermici o ad alta temperatura o a bassa temperatura. Quindi queste sono le aree dove è possibile, con opportune tecnologie, sfruttare l'energia naturale della Terra per produrre energia elettrica o anche per produrre energia che serve a riscaldare in ambito domestico o in ambito industriale. Quindi questa la possiamo definire un'energia che è disponibile gratuitamente e soprattutto è rinnovabile. Quindi questa figura mostra come è fatto un campo geotermico. Questo campo geotermico, quindi, abbiamo visto che viene definito anche sistema geotermico. Come ho detto, questi sistemi geotermici somigliano un po' nella loro struttura alle trappole per idrocarburi ed anche abbiamo visto che le tecniche per individuare questi sistemi geotermici sono molto simili a quelli per individuare una trappola di petrolio. Infatti si avvalgono di prospezioni geofisiche che permettono di stabilire quale è la conformazione geologica del suolo. Come è scostituito quindi questo sistema geotermico? Una fonte di calore in basso, per esempio un magma in via di raffreddamento, un bacino acquifero. Quindi l'acqua è fondamentale, come avete visto. Questo bacino acquifero ha una formazione geologica permeabile, quindi le acque possono filtrare e possono anche circolare liberamente in quelli che sono i pori e le fratture di questo bacino acquifero. E poi nella parte superiore una roccia impermeabile di copertura che funge da avere propria trappola per le acque calde che impedisce, come accadeva, come ho detto negli idrocarburi, la dispersione in superficie e quindi la risalita in superficie e quindi mantiene una forte pressione. Cosa è necessario perché sia possibile sfruttare in modo duraturo questa risorsa energetica? E' importante che ci sia una, chiamiamola, ricarica di acqua proveniente dalla superficie. Eccola qui. Senza una costante ricarica, quindi rigenerazione di quest'acqua, in genere, dovuta principalmente alle acque meteoriche che penetrano all'interno delle rocce, questo bacino non può essere sfruttato. Perché? Noi andremo a sfruttare l'energia geotermica, l'acqua geotermica presente all'interno del bacino, ma se non abbiamo una ricarica di quest'acqua non possiamo garantire una pressione adeguata a quello che è il bacino geotermico. Proprio per questo motivo in alcuni casi, in molti casi, l'acqua poi viene reintegrata, reiniettata all'interno del bacino geotermico. Come ho detto, i sistemi, andiamo un attimo avanti, si differenziano in sistemi ad alta temperatura e a bassa temperatura. Nei sistemi geotermici ad alta temperatura, le acque circolanti nel sottosuolo hanno temperature molto elevate. in genere sono sempre superiori ai 140 gradi centigradi. Però queste temperature possono anche essere molto più alte. Per esempio, all'arderello si arriva anche a temperature di oltre 260 gradi centigradi nel sistema geotermico dell'arderello. In questi sistemi vi può essere sia la risalita di solo vapore, sia la risalita di acqua liquida mescolata a vapore. Abbiamo visto che l'acqua, se è sottoposta ad elevate pressioni, non si trasforma in vapore a temperature, alla classica temperatura di 100 gradi centigradi, ma anche temperature molto più elevate. Quindi, quando risale, possiamo avere dell'acqua anche a temperature superiori ai 100 gradi centigradi. Questo vapore è prelevato attraverso dei pozzi. Eccolo qui. Quindi, questo vapore, che è prelevato attraverso dei pozzi e dei sistemi di tubazione, viene utilizzato per mettere in movimento, al solito, delle turbine. Queste turbine, a loro volta, alimentano un alternatore che andrà e sarà quello che produce l'energia elettrica. Abbiamo visto che questi sistemi possono essere di due tipi, o a vapore dominante o a acqua dominante. Quelli ad acqua dominante, come ho detto poco fa, sono quelli dove il vapore è messo ad acqua. Naturalmente, quelli più produttivi tra questi sistemi sono quelli dove abbiamo solo vapore, perché separare già l'acqua dal vapore ha un costo energetico notevole e quindi il rendimento dell'intera centrale, del sistema della centrale geotermica, è minore. Andiamo a vedere quelli che sono i sistemi a bassa temperatura. Questi sistemi funzionano con temperature sotto i 140 gradi e quindi in questi sistemi la produzione di energia elettrica non è conveniente. Quindi che cosa noi sfruttiamo? Sfruttiamo soltanto il calore. Se le temperature sono superiori ai 90 gradi centigradi, è possibile utilizzare i fluidi caldi per far vaporizzare un secondo fluido a un punto di ebollizione più basso. Ad esempio, si utilizzano fluidi tipo il freon o il cloruro di etilene, quindi questi hanno temperature più basse e quindi possiamo trasformare questi liquidi in vapore. E quindi questo vapore lo possiamo sfruttare per la produzione di energia elettrica. Però quando le temperature sono inferiori ai 90 gradi quest'acqua viene più che altro sfruttata con i cosiddetti schemi a cascata. Infatti, perché vengono definiti a cascata? Immaginate proprio perché accadono diverse cose. Infatti, prima i fluidi caldi quando ancora hanno un'elevata temperatura li utilizziamo per usi che richiedono proprio temperature più elevate. E successivamente, quando iniziano a cedere energia termica, successivamente andiamo a sfruttare questo fluido che man mano ha perso temperatura per altri scopi. Infatti, vediamo un pochettino quelli che sono questi scopi. L'utilizzo primario è sicuramente il riscaldamento urbano. Infatti, per questo utilizzo impieghiamo acqua a temperature comprese tra i 130 e i 50 gradi centigradi come avviene a Ferrara. Il tepore prodotto dal contatto con l'acqua calda viene sfruttato anche per processi secondari tipo utilizzo agricolo oppure zootecnico oppure, come abbiamo visto ad orbeterlo, per l'acquacoltura. In questo modo sfruttiamo al massimo quello che può essere l'energia geotermica, l'energia termica che viene fornita da questi sistemi. Qui, in questa immagine, vedete uno sfruttamento sempre dell'energia geotermica a bassa temperatura sfruttando proprio il gradiente termico del sottosuolo. Il suolo, quindi, ha una temperatura costante, ci sono dei fluidi che vengono riscaldati da questa temperatura. Le temperature, naturalmente, non sono elevate, sono temperature basse, però costanti, sia d'estate che d'inverno. Vanno ad alimentare quello che è il sistema di riscaldamento domestico. La temperatura diminuisce, quindi questo fluido cede temperatura. Quindi abbiamo un tubo di ritorno che nuovamente andrà a riscaldare e si completa il ciclo di riscaldamento domestico sfruttando in modo molto semplice un gradiente termico molto basso, ma interessante per poter essere sfruttato a livello proprio domestico. Possiamo quindi definire l'energia geotermica un'energia che può essere per sempre sfruttata? Beh, diciamo che l'energia della Terra è, almeno alla scala della vita umana, apparentemente inesauribile. Tuttavia, anche lo sfruttamento dei campi geotermici deve avvenire in modo molto attento e controllato. Infatti, i campi geotermici tendono progressivamente ad un naturale declino. Però questo declino può essere efficacemente contrastato, per esempio, come abbiamo visto, attraverso la reiniezione studiata e soprattutto mirata data dalla conoscenza proprio del serbatoio stesso. Una reiniezione di fluido, di acqua non corretta, infatti, porterebbe ad un raffreddamento che andrebbe a diminuire la produttività, così come una reiniezione lenta di fluidi potrebbe anche portare al progressivo esaurimento del bacino geotermico. Quindi possiamo definirla per sempre, sì, ma dobbiamo stare molto attenti anche nello sfruttamento del bacino geotermico. Quali possono essere i problemi? Beh, un problema sicuramente è quello che quando si fuoriescono i vapori che sono prelevati, abbiamo visto, oppure anche l'acqua mista a vapore che proviene dal profondo della Terra, possiamo, questi vapori possono essere questi vapori possono essere presenti anche sostanze nocive, tossiche per gli uomini. Sì, è vero, ci sono nelle nuove centrali geotermiche dei meccanismi che permettono alle torri di refrigerazione che sono quelle che funzionano fondamentalmente come le torri di refrigerazione di una centrale nucleare. Però stavo dicendo che questi vapori che contengono, che possono contenere non solo acqua, ma anche vapori di sostanze tossiche, devono essere filtrati per finire nell'atmosfera. Quindi questo è uno dei problemi che anche nelle zone, per esempio, della Miata, le popolazioni si lamentano nella realizzazione di nuove centrali di tipo geotermico. Tutto questo, direi che con questo argomento abbiamo completato. Ci si vede la prossima settimana. Studiate attentamente, ascoltate più volte questa video-lezione, soffermatevi in quelli che possono essere gli aspetti un pochettino più complessi e fate le domande alla, come sempre, come vi ho detto all'inizio, su Classroom. Arrivederci.